Non si è giocata la partita tra Nicosia ed Agira Nistoria, valida per l'ottava giornata del campionato di promozione. Le cattive condizioni atmosferiche e le precipitazioni che durante tutto il giorno si sono riversate su Nicosia hanno reso impraticabile il terreno di gioco. Oltre a questo anche la nebbia scesa sullo Stefano Lamotta rendeva praticamente la visibilità abbastanza compromessa. Dopo un breve riscaldamento da parte della terna arbitrale e delle squadre, alla fine il signor Dario Madonie di Palermo si è accertato dell'impossibile di far giocare le due compagini in maniera regolare ed ha deciso di non far disputare l'incontro. Ricordiamo che l'ottavo giornata era già stata rimandata al 31 ottobre dopo che il comitato regionale aveva deciso che per motivi elettorali non potevano essere disputate le partite di campionato. Una scelta a dir poco infelice è considerato il fatto che oltre a Nicosia anche su altri campi come Piumefreddo, Troina e Messina si sono dovuti rinviare per il maltempo le partite in calendario. Considerando poi l'assenzionismo che si è registrato in questa tornata elettorale, forse sarebbe stato meglio giocare di domenica così come in programma, evitando ulteriori dannosi rinvii.